La Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della persistente siccità che sta paralizzando l'isola, dove al momento si registra una carenza di acqua potabile. In Sardegna non piove da settimane, mentre le temperature nella regione continuano a salire e l'isola si aspetta faranno fino a 40 gradi Celsius nei prossimi giorni. L'annuncio è stato dato dal Consiglio regionale della Sardegna e la disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre. Il Presidente della Regione Autonoma ha dichiarato che le procedure straordinarie, come l'emanazione dello stato di emergenza, sono necessarie per contenere gli effetti della crisi idrica in corso. La scarsità d'acqua ha colpito drasticamente le attività agricole e quelle industriali, il settore turistico e la vita quotidiana dei cittadini sardi. Il senatore italiano Marco Meloni ha chiesto strategie a lungo termine per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e della siccità sulle isole italiane. Grazie. Grazie. Grazie.